Il 25 aprile è davvero la festa di tutti perché la resistenza fu fatta da tutti, comunisti, socialisti, liberali, azionisti, monarchici, cattolici, liberali, e fu fatta non soltanto dai partigiani ma dai sacerdoti, dai carabinieri, dai militari, dagli ebrei, dalle donne, tantissime donne. Voglio oggi in breve ricordarvi la storia di due di loro. La prima era una suora, suora Enrichetta Alfieri, era la capa delle suori di San Vittore, il carcere di Milano, che si riempì di prigionieri dei nazifascisti e lei si schierò dalla loro parte, faceva uscire i loro messaggi, fece uscire anche qualche prigioniero in carne ed ossa e fu scoperta, arrestata, condannata a morte, poi fu graffiata e dopo la liberazione morì di morte naturale e ci fu il processo di beatificazione e vennero chiamati a testimoniare due dei prigionieri dei nazifascisti a San Vittore, due pericolosi rivoluzionari, Indro Montanelli e Mike Bongiorno. Montanelli disse una frase bellissima, disse certe cose possono farle soltanto i santi o gli eroi. Suora Enrichetta era entrambe le cose. Dopo quella frase fu fatta subito santa. E l'altra era invece una donna delle pulizie. Se voi digitate su Google il suo nome, Cleonice Tomassetti, un M, due S. Vedrete una foto in bianco e nero. Sono 42 partigiani che stanno andando a morire in riva al Lago Maggiore. Sono tutti uomini, due di loro sono costretti a portare un cartello che dice sono questi i liberatori d'Italia oppure sono i banditi. E c'è davanti una donna, una sola donna, è Cleonice Tomassetti. È molto elegante, ma i vestiti che indossa non sono suoi. Lei aveva addosso dei cenci sporchi di sangue. Sono vestiti che le hanno regalato le mogli degli altri condannati per consentire di andare a morire con dignità. Ed è lei a fare coraggio ai compagni fino alla fine. E prima, sotto le torture, aveva detto ai nazisti, se percuotendomi volete mortificare il mio corpo è superfluo farlo, esso già annientato. Ma se invece volete uccidere il mio spirito, ecco questo è inutile perché non lo domerete mai. Buon 25 aprile a tutti.